Bella a tutti ragazzi con Orgasmic e siamo qui con l'ottavo episodio dei Potential Transfer estivi di FIFA 16 e quindi direi di non perderci in chiacchiere, vi invito subito a lasciare un bel like, vediamo se riusciamo ad arrivare per questo episodio a 400 mi piace, sarebbe un ottimo traguardo, quindi pollice in su e ovviamente commentate scrivendomi qualche altra trattativa da trattare nei prossimi video perché comunque siamo in calcio mercato quindi ci sono un sacco di voci di mercato e quindi ci sarà tanto da parlare da qui fino a settembre quando il mercato chiuderà, comunque andiamo con i tre giocatori di oggi, tutti e tre giocatori legati alla Serie A perché quest'anno mi sto concentrando molto sulla Serie A che comunque sta facendo tante trattative quest'anno, poi ovviamente ci saranno anche degli episodi riguardanti il calcio mercato estero, comunque parliamo di Goetze che è il primo giocatore che tratteremo in questo episodio, come sappiamo Goetze è da molto tempo che è accostato diciamo così alla Juventus, infatti come potete vedere questa è la sua carta di FIFA 16 se nel caso si trasferirà alla Juventus visto che in questi giorni, ormai nelle ultime settimane, si sta parlando molto di Goetze, poi si era abbandonata un po' la pista perché è dichiarato incedibile, poi un po' si è riaperta, si è parlato di altri trequartisti, quali Draxler soprattutto, si è parlato anche di Isco, ma sembra che per ora Goetze, nel caso non si facesse Draxler, che è comunque una trattativa molto difficile perché lo Schalke non vuole cederlo, la più fattibile sembra Goetze che potrebbe andare via dal Bayern Monaco, non penso abbia grossissimi legami con Guardiola e quindi tutto sarebbe a favore della Juventus che potrebbe strappare al Bayern Monaco questo ottimo giocatore come sappiamo la Juve ha perso giocatori importanti e quindi ha bisogno di comprare un giocatore di questa importanza che riesca a fargli fare il salto di qualità definitivo alla Juventus questa sarebbe appunto come ho detto prima la sua carta di FIFA 16, secondo me ha disputato un'ottima stagione quest'anno Goetze e guagliando se non sbaglio il gol che aveva fatto nella stagione precedente, con un po' di assist in meno questo fa derivare appunto il meno 1 in passaggio, ma vabbè di poco conto il resto delle statistiche più o meno sulle stesse, un po' sono aumentate, un po' diminuite, ma vabbè quello non cambia molto comunque il giocatore io penso che resterà comunque un 86 di cifre, ancora non si sa niente e quindi di cifre non ne parleremo in questo video, magari ne parleremo successivamente ma andiamo con il secondo giocatore di oggi, cioè come potete vedere da questa grafica Perotti sogno estivo di tante big durante la scorsa stagione, poi c'è stato l'infortunio e quindi se ne è sempre parlato di meno però come vediamo da questa immagine potrebbe trasferirsi all'Inter, e dico potrebbe perché il sogno di mercato di Mancini, cioè l'obiettivo numero 1 per l'attacco di Mancini, come sappiamo è Perisic ma la trattativa sembra molto difficile, da tanto che stanno trattando le due parti il giocatore costa circa 20 milioni, si è trovato una sorta di accordo sui 18 però poi non va bene perché ci sono dei problemi fisici del giocatore oppure il Vosburg vuole un pagamento unico mentre l'Inter dilazionato vabbè comunque non c'è un grande accordo tra le parti su queste cose e quindi si potrebbe virare su Perotti che comunque l'anno scorso ha disputato una grande stagione con il Genoa appunto purtroppo si è infortunato verso la fine del campionato e comunque ha fatto molto bene al Genoa quindi questa secondo me sarebbe la sua carta nel caso si trasferisse all'Inter con un notevole upgrade a 76 circa ovviamente la carta diventerebbe oro con un aumento notevole delle statistiche potrebbe diventare una carta interessante diciamo una carta simile a quella di Keita o simili che abbiamo in Serie A quest'anno però un po' meno veloce chiaramente però comunque si, il giocatore ha disputato una grande stagione lo scorso passato probabilmente se resterà in Serie A e quindi andrà all'Inter o resterà al Genoa ovviamente penso che disputerà un'altrettanta buona stagione quest'anno comunque andiamo con l'ultimo giocatore di oggi secondo me il più interessante da trattare cioè come potete vedere Gerson o meglio come potete vedere molto oscurato il giocatore perché non è presente in FIFA è un giocatore di 18 anni che si è aggiudicata la Roma con un gran colpo secondo me questo è proprio un colpo alla Sabatini non so se sarà bronzo, non so se sarà argento non penso sarà oro ma non penso neanche magari ci sarà nel gioco l'anno prossimo perché la Roma ha comprato questo Gerson dal Fluminense o dalla Fluminense per circa 17 milioni quindi è una cifra molto alta lui è un giocatore molto molto promettente un talento, forse uno dei migliori talenti brasiliani ma resterà a giocare nella Fluminense fino a dicembre 2015 quindi si trasferirà alla Roma solo a gennaio 2016 quindi non so se non ci sarà anche quest'anno la Liga do Brasil in FIFA 16 probabilmente Gerson non verrà fatto e probabilmente anche se si trasferirà nella Roma a gennaio la sua carta non ci sarà non lo so, questo non ve lo posso dire perché non so niente a riguardo però sta di fatto che è una carta anzi un giocatore molto interessante ne deriva appunto la sua carta molto interessante non conosco benissimo il giocatore quindi ho inventato un po' le statistiche vedendo qualche video su YouTube di qualche clip su Scout Nation quindi ho tirato fuori questa sorta di carta qui non so se sarà un 72 non so se avrà 80 di velocità comunque è un giocatore che non ha un brutto tiro è un giocatore abbastanza veloce è un giocatore che ha un ottimo passaggio da quello che ho notato è anche un ottimo dribbling quindi secondo me potrebbe essere circa così la carta con magari anche 4 stelle abilità comunque raga fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto come sempre vi invito a lasciare un bel like 300 o 400 mi piace per il nuovo episodio scrivetemi sempre nei commenti qualche giocatore da trattare successivamente nei prossimi episodi e cosa ne pensate di questo Gerson molto interessante iscrivetevi al canale pagina Facebook, Twitter, Instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga